Belen è andata a mangiare alla piccola luna, ti piace la pappa? E lei sul girello non si ferma un minuto. Oh yes! Oh yes! C'è la pappa! Ci piace? È buona? È buona o no? Sì è buona! Sei come quella dietro! No Belen, non è come quella dietro, lei è molto molto più bella, ha degli occhi stupendi! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!